Salas, si accentra Salas, il tiro respinto ancora, poi arriva Crema, doppio intervento di Buda Buzzi che salva retturalmente il risultato, il possibile gol. Buda Buzzi recupera la palla in mezzo a Buda Buzzi, il tiro alla rete, Yohan Buda Buzzi arriva il pari dei padroni di casa. Buda Buzzi, la palla recuperata, attenzione, arriva il gol da parte di Buda Buzzi con la palla recuperata. Poglia, la battuta dell'angolo, Buda Buzzi in mezzo, il pallone passa. Raffinia forse sbaglia sul secondo palo, arriva Buda Buzzi che fa 1-1 sull'assist di Adriano Foglia. a 51 secondi dalla fila. non c'è portiere, vediamo che fa Moretti, lancia verso Buda Buzzi, il coppo di testa alla rete, Yohan Buda Buzzi! questa volta il gol è il suo e vale il 5-2 del vitolaro Dragstore Manfredonia!